Sì Ancora noto. Per l'altra lo possiamo fare, ora no. Per l'altra lo possiamo fare, ora no. ... ... ... ... ... ... ... dai uno l'uno sono stati i gol che gli avete rotto sono bravi ma i gol sul calcio d'angolo non ti lamentare torna a posto così arriva a destra queste le maiche sono due contro uno in casetta è quattro vai da questi io me ne vado a presto arriva arriva dai Buongiorno a tutti. Una gara senza portieri, è quanto vedo. No, no, dai a loro io parlo. Ci siamo fermati. Tutti questi contropiedi. Calma, no, mi mette voce. Deve stare zitto. 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 Grazie.